Siamo a diventare il primo partito italiano all'europea, a parlare Casaleggio, cofondatore del Movimento 5 Stelle, che prende di mira Renzi. Cavalca i nostri temi e il clone di Berlusconi, ma non abbiamo paura, dice, mentre Grillo sul suo blog ricicla un vecchio articolo dell'Economist dei primi di marzo, critico sul discorso programmatico di Renzi in Parlamento. Da Renzi abbiamo sentito solo spot, mancano ancora le misure concrete per risolvere problemi come la disoccupazione. Per il Movimento 5 Stelle è prioritario il reddito di cittadinanza e l'aborsione dell'IRAP per le piccole e medie imprese. E c'è anche la polemica interna al Movimento con Casaleggio, che attacca il sindaco di Parma. Se non mantieni gli impegni e vai a casa, Pizzarotti replica, il resto è al mio posto. Nessuno sconta il governo.